Ciao a tutti gli amici romane e romani. Quest'anno, visto che è Natale, quindi tutti andiamo a comprare i regali, vi suggerisco una cosa. Compriamole nei negozi. Roma è bellissima in questo periodo. È piena di luci, è piena di addobbi ed è una città meravigliosa, romantica. Approfittiamo in questo periodo, usciamo nei nostri quartieri e andiamo proprio a cercare i negozi che ci possono magari dare un'idea, un'ispirazione, il regalo. Concediamoci una passeggiata per le vie di Roma e facciamoci consigliare, perché chi ha i negozi, chi ha le botteghe più o meno grandi, artigiani o semplicemente chi vende a Roma, chi ha il negozio a Roma, è un esperto. Normalmente si è magari tramandato la tradizione dai genitori ai figli e ai nipoti. Quindi sono persone che amano il loro lavoro, che scelgono quello che c'è nei negozi, lo scelgono con cura, lo consigliano. Vedi un oggetto, ti piace, lo tocchi, lo confronti. Acquistando nei negozi non fai solo un regalo alla persona che stai umaggiando e a te stesso, ma anche alla tua città. Quindi quest'anno fai come me, regalati Roma.